Non è certo una novità che l'uomo non sia geneticamente programmato per lo shopping, ma ciò che è successo in Cino Orientale, nella provincia di Jiangsu, è a dir poco sconvolgente. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, dopo 5 ore di shopping, un 38enne cinese, vedendo la fidanzata soffermarsi davanti all'ennesima vetrina, ha perso la ragione e si è lanciato nel vuoto. Testimoni oculari dicono di aver sentito la coppia litigare. Lui sosteneva che la compagna non avesse bisogno di un ulteriore paio di scarpe. Lei lo accusava di essere tirchio e di rovinarle il Natale. A quel punto l'uomo ha gettato le borse sul pavimento, si è diretto verso un balcone del centro commerciale e si è buttato dal settimo piano.